Musica Ben trovati alla terza edizione del TG6 in apertura nell'incendio di Campo Imperatore. La magistratura aquilana ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di sei persone. Nel frattempo che i soccorsi proseguono per domare le fiamme scoppia la polemica politica sulle eventuali responsabilità di questo vasto incendio che ha coinvolto sia il versante aquilano che quello pescarese del Gran Sasso. Il punto della situazione è nel servizio di Andrea Costantini. Sono sei le persone denunciate dalla procura della Repubblica dell'Aquila con l'ipotesi di reato di incendio colposo per il rogo divampato a Fonte Vetica Campo Imperatore. Il PM Siponetta Ciccarelli ipotizza che le fiamme siano partite dal loro barbecue utilizzato nell'ambito della 58esima rassegna degli ovini, oggetto che è stato posto sotto sequestro. Dopo aver interessato le praterie della Piana e superato la montagna circostante, bruciando prima la Pineta e poi la Faggeta, il fuoco ha raggiunto il versante pescarese e la cima del Monte Siella, sopra Rigopiano, proprio nei pressi del canalone da cui il 18 gennaio scorso si è distaccata la valanga che ha causato la morte di 29 persone. La situazione però è migliorata anche grazie all'intervento del Canadair che dalle prime ore del giorno ha effettuato dei lanci. Questa mattina sono stati effettuati sei sganci con il Canadair che ha di molto ridimensionato il fronte dell'incendio. Adesso le condizioni mete non consegnano il sorvolo ma siamo fiduciosi che nelle prossime ore si possa bonificare il tutto. È chiaro che in questo particolare periodo storico va attuato ogni misura di prevenzione finalizzata poi a scongiurare questi disastri che qui fortunatamente sono ambientali ma che potrebbero interessare anche la pubblica incolumità. Daniele Liccheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, annuncia che l'episodio sarà portato all'attenzione del Parlamento per accertare le responsabilità di una così grave leggerezza del sistema di sicurezza pubblica. Sinistra Italiana critica anche la scelta del governo di sopprimere il corpo forestale dello Stato. Il Movimento 5 Stelle invece pone l'accento sulla mancanza di investimenti nella prevenzione e sui soccorsi. La Camera di Commercio dell'Aquila, organizzatrice della rassegna degli ovini, auspica che sia fatta luce sulla dinamica dell'incendio e che vengano accertate subito eventuali responsabilità. Tra le voci critiche relativamente ai sistemi di sicurezza a Campo Imperatore c'è quella del Forum Abruzzese dell'Acqua che aveva lanciato un allarme che è rimasto inascoltato di Icono e anche presentato un esposto alla Procura. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. In queste ore sta ancora bruciando il Gran Sasso, Campo Imperatore, anche il versante pescarese. Il Forum Abruzzese dell'Acqua aveva già lanciato l'allarme alcuni giorni fa, un allarme evidentemente inascoltato. Sì, questa associazione ma anche tante altre perché è da tanti anni che in quel posto c'è un uso selvaggio della natura. Abbiamo segnalato tante volte all'ente parco la necessità di regolamentare, di controllare, di vigilare l'utilizzo turistico di quella zona e abbiamo anche presentato un esposto con un'ampia documentazione fotografica sugli effetti devastanti dell'ultimo motoraduno fatto a metà luglio. Noi ci troviamo di fronte a degli ambienti che apparentemente possono sembrare banali ma quei pascoli, quei prati non sono prati normali ma sono prati ricchi di biodiversità e ci sono ricerche effettuate dall'Università sia dell'Aquila che di Ancona che lo dimostrano. E poi non dimentichiamo anche un altro aspetto molto importante che Campo Imperatore è di fatto un grosso bacino come se fosse un bacino in brifero con una fortissima capacità di far filtrare l'acqua quell'acqua che poi noi ritroviamo al vitello d'oro oppure lungo il Tirino e per la sua capacità è considerata una delle aree più importanti d'Europa addirittura. Pensate che quando si organizza una partita di calcio in un'area antropizzata ci sono delle regole da rispettare, dove parcheggiare, dove poter mangiare, dove fare i bisogni e c'è tutta un'organizzazione, tutta una serie di regole che bisogna rispettare. Questo avviene normalmente quando si organizzano queste attività. Lì dove queste attività sono incompatibili vengono realizzate senza nessuna regolamentazione ma soprattutto senza nessuna sorveglianza. E nell'Aquilano le montagne continuano a bruciare, nuovo incendio nella giornata di ieri questa volta a Preturo, fiamme alte visibili anche dalla strada, il servizio della redazione aquilana. Non si fermano purtroppo gli incendi nell'Aquilano. Dopo i roghi di Aragno, Valle Pretara e Fonte Vetica, quest'ultimo ancora in corso, intorno alle 18 di ieri le fiamme si sono sviluppate nell'estrema periferia ovest del capologo abruzzese e più precisamente nella frazione di Cascine di Preturo. Le fiamme, di cui ancora non è chiaro l'origine, si sono accese nel bosco ai piedi di Monte Calvo, tra Pozza e Santi di Preturo. L'incendio pare sia iniziato nelle vicinanze del cimitero di Santi. Sul luogo ci sono i vigili del fuoco e i volontari di protezione civile. In zona sono tanti e in affanno i mezzi impegnati per lo spegnimento degli incendi sul Gran Sasso e Aragno, dove da martedì le fiamme sono state domate solo l'altro ieri. Continuiamo con la cronaca. Notizia che arriva da Lanciano. I genitori lo hanno trovato esanime in culla e immediatamente lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Renzetti, ma nonostante i tentativi di rianimazione ai sanitari, hanno soltanto potuto constatare la morte del bimbo di appena un mese. Un decesso da collegare probabilmente alla sindrome della morte in culla, anche se il pubblico ministero della procura di Lanciano, Rosaria Vecchia, ha disposto come atto dovuto un esame autoptico che sarà eseguito domani mattina alle 8 dal medico legale Pietro Falco di Chieti. Il bimbo era stato accompagnato in ospedale dai genitori, una giovane coppia di 25-30 anni. L'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Lanciano ha evidenziato che sul corpicino non c'era alcun segno di violenza fisica né di lesioni collegabili a possibili cadute. Il bimbo è apparso dall'analisi fatta dai sanitari ben curato e questo ha fatto pensare alla sindrome della morte in culla. Proseguiamo adesso con la politica. Il centro-destra chiede risposte urgenti per via Lago di Borgiano a Pescara e soprattutto una variazione di bilancio per l'aumento dei fondi da stanziare per fronteggiare l'emergenza. Critiche anche al comune che sta anticipando soldi al posto della regione. Sentiamo. Sulla problematica delle case a terra, Marcello Antonelli, siete tornati a battere forte questa mattina in conferenza stampa. C'è questa delibera di gennaio, 5 milioni di euro che però non sono evidentemente sufficienti. E poi c'è anche l'altra questione che fino ad oggi è stato il comune di Pescara ad anticipare dei fondi. D'Alfonso stanzia 5 milioni di euro e dice che sono per l'emergenza abitativa di via Lago di Borgiano. Fa riferimento però a un atto della sua giunta che invece individua quale oggetto degli interventi altri alloggi che sono quelli di via Caduti per servizio e quelli del rione Gescal dei Colli. Interventi che devono essere fatti ma qui bisogna che ci si metta d'accordo. I 5 milioni di euro non sono sufficienti per fare quegli interventi e anche per trovare soluzioni alla mancanza di agibilità e quindi di alloggi di via Lago di Borgiano. Ad oggi il comune di Pescara ha già impegnato i 200 mila euro. Quegli alloggi sono di proprietà dell'Ater e quindi alla regione. La legge dice che è il proprietario che deve farsi carico di questa fase emergenziale. Pertanto il comune ha anticipato ma deve vedersi rimborsate velocemente queste somme e soprattutto la regione deve farsi carico di tutti gli impegni che saranno necessari per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Se è prioritario uno skate park o dare i soldi necessari per non fare una guerra dei poveri sulla ristrutturazione di alloggi Ater perché i 5 milioni annunciati dal Presidente D'Alfonso per la risoluzione dei problemi strutturali ovvero rendere agibili immobili oggi chiusi, appartamenti oggi chiusi da assegnare alle famiglie evacuate dalla via Lago di Borgiano sono in realtà destinati ad altre opere di sistemazione e di manutenzione di altri alloggi Ater. Opere assolutamente positive che si devono fare ma che non sono sufficienti a coprire tutte e due le emergenze. Allora innanzitutto bisogna mettere chiarezza tra le carte e la regione perché il compito che ha dato la regione all'Ater è di fare altro rispetto all'emergenza abitativa di Valago di Borgiano. Se servono altre risorse si fa quello che farebbe un qualsiasi uomo di buonsenso che ha una programmazione e invece la cambia e pensa all'emergenza che è più importante di opere che hanno una loro importanza ma che non sono strettamente necessarie in questo momento. Il Movimento 5 Stelle a settembre porterà in Consiglio regionale una proposta per limitare e reprimere l'abusivismo e i reati commessi all'interno delle case popolari. Sentiamo. Bloccare il fenomeno dell'abusivismo nelle case Ater e ripristinare la legalità all'interno degli alloggi popolari soprattutto dei quartieri difficili di Pescara come Rancitelli e Fontanelle è la proposta del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari condensata in emendamenti al progetto di legge regionale che riguarda le norme per l'assegnazione delle case popolari. Soprattutto nel quartiere Fontanelle il clima ormai è diventato invivibile troppi reati che vengono consumati all'interno degli alloggi popolari e negli spazi comuni dove lo spaccio non ha sosta e i sopprusi sono all'ordine del giorno. Con l'appoggio dell'Associazione Insieme per Fontanelle e Pettinari ha stilato una serie di norme che a settembre approderanno in Consiglio regionale sulle quali il pentastellato auspica una larga condivisione. Oltre a chi adibisce l'alloggio ad attività illecite perché oggi la legge vigente prevede che chi adibisce l'alloggio ad attività illecite se spacci droga all'interno dell'alloggio può essere sfrattato con la mia proposta di legge deve essere sfrattato anche chi adibisce l'alloggio e le pertinenze alle zone limitrofe che vuole dire che se metti la droga nell'ascensore ed è riconducibile a te o metti la tua arma pistola all'interno dell'ascensore deve essere anche per questo sfrattato. Non solo, ho introdotto un comma che prevede che chi ospita stabilmente all'interno dell'alloggio parenti e amici che vengono colti in fragranza di reato, anche quelli devono essere sfrattati dall'alloggio. Non solo, abbiamo previsto un'altra norma esemplare, che chi presenta domanda di assegnazione all'alloggio popolare e nei cinque anni precedenti è stato condannato con sendenza passata in giudicata per tutta una serie di reati che vanno dal porto di armi, usura, racket, contro la persona, contro il patrimonio, non possono accedere agli alloggi popolari. Ecco, questa è una cosa bellissima. Se centrodestra e centrosinistra la voteranno, questa mia legge, la legge del Movimento 5 Stelle, ripuliremo finalmente un bel pezzo delle case popolari. Sono ore di attesa a Pescara per conoscere le reali intenzioni della lista Teodoro, che è ancora lontana da un accordo con la giunta Alessandrini per il rimpasto di governo. Pier Nicola Teodoro ribadisce che non è un problema di poltrone quello con la maggioranza e con il sindaco di Pescara. Sentiamolo. Resta in stand by nella giunta Alessandrini la lista Teodoro per Pescara. L'assessorato promesso al Movimento Politico dal primo cittadino non si è ancora palesato, ma ai nostri microfoni il capogruppo Pier Nicola Teodoro ribadisce che non è certo un problema di poltrone, ma di programmi per il bene della città. Come abbiamo più volte precisato sia io che il consigliere Pignoli, noi non interessano nei poltroni. Noi vogliamo parlare di programmi, vogliamo parlare di futuro, di rilancio della città e se ci sono i presupposti per un rilancio serio della città, con un lavoro serio, con progetti seri, con programmi seri, noi saremo anche disponibili. Non ci piace riscaldare le varie poltrone e né siamo qui per avere qualche poltrona. Non l'abbiamo chiesto da nove mesi, non lo chiediamo, vogliamo solo il bene della città di Pescara. Se oggi abbiamo un bilancio così ricco anche, questo è anche un po' merito nostro, a noi ci interessa parlare della riqualificazione delle periferie, a noi ci interessa parlare della sicurezza della città, a noi ci interessa parlare del turismo, a noi ci interessa parlare del rilancio di questa città sotto l'aspetto edile, sotto l'aspetto urbanistico. Ecco, noi di questo vogliamo parlare. A chi dice però che in Consiglio Comunale spesso i vostri emendamenti rallentano i lavori, lei cosa risponde? Io faccio gli emendamenti come è previsto dalla legge e dal regolamento per migliorare unitamente il Consigliere Pignone. Noi vogliamo solo migliorare la delibera. Poi questo non avviene, l'unico mezzo che ho per poter migliorare la delibera come è previsto dalla legge è l'aula del Consiglio Comunale. È lì che posso dare il massimo di me stesso, è lì che tutte le prerogative le posso mettere sul campo. Poi ci sono le leggi, ci sono i regolamenti che impongono e definiscono determinati programmi. Io oltre la legge non sono mai andato, per cui cerco di fare quel che è possibile, ma sempre per il bene della città. Io sfido chiunque a trovare un emendamento che vada o che sia stato approvato o presentato a favore e a vantaggio della lista di Odoro o di noi. Il caldo degli ultimi giorni non ha fermato gli eventi estivi di Alba Adriatica. Grande folla ieri sul litorale per l'esibizione delle frecce tricolore. Il servizio è di Noemi Fratelli. Le frecce tricolore hanno tinto il cielo di bianco, rosso e verde, segnando un giorno memorabile. Sono state tantissime le persone che hanno scelto di sfidare il grande caldo di Lucifero. Alla ricerca delle emozioni forti regalate dal JTMB 339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, dall'elicottero di ricerca e soccorso dell'aeronautica militare, dai droni, dagli idrovolanti, dal pattugliatore aereo della Guardia Costiera. Un evento speciale, anche perché caratterizzato dal ricordo del pilota Marco Ricci, deceduto due anni fa durante l'air show, a cui il sindaco di Alba, Tonia Piccioni, ha voluto dedicare l'evento. Però oggi forse abbiamo dedicato questo evento, questa manifestazione, questa acrobazia delle frecce tricolore anche a lui e a tutti noi. Sono veramente felice, è una gioia dentro, perché è qualcosa che mi accompagnerà per tutta la mia vita, ma non solo penso a me, ma a tutti coloro che hanno potuto ammirare queste eccellenze nazionali. Nonostante i dubbi nel riproporre lo spettacolo dopo gli avvenimenti passati, l'evento è stato un successo. Sotto il sole di agosto la città di Alba Adriatica è riuscita ancora una volta a sorprendere i cittadini e turisti con uno spettacolo memorabile, dando appuntamento al 20 agosto per il carnevale estivo. Andiamo avanti con le manifestazioni. Lo scorso weekend si è chiusa la dodicesima edizione del premio Benedetto Croce che si tiene nella città di Pescassero, gli premiati Ainis e Sgarbi. Vediamo. Si è svolta a Pescassero la dodicesima edizione del premio nazionale di cultura Benedetto Croce che assegna riconoscimenti a tre categorie di libri scelti da una giuria istituzionale e da una giuria popolare che coinvolge centinaia di studenti in tutto l'Abruzzo. Sono stati premiati Vittorio Sgarbi e Michele Ainis per la saggistica, Paolo De Bernardis per la letteratura giornalistica e Roberto Alaimo per la narrativa. Premio alla memoria a Marco Pannella. Benedetto Croce è stato un filosofo, uno storico, ma soprattutto un grande scrittore e il pregio del grande scrittore è la limpidezza e la possibilità di comunicare come pochi riescono a fare ancora oggi e anche oggi scrivendo in modo confuso, avendo idee confuse. Le idee di Croce erano molto limpide, la sua scrittura è molto chiara e quindi vuol dire che siamo stati capaci di essere compresi dai giovani che ci hanno scelti, il che è molto positivo per quello che abbiamo scritto e anche in un dialogo che nasce tra il libro e i giovani che lo leggono. Diciamo intanto che quando ho saputo di questo premio la cosa che mi ha fatto più piacere è che il voto è stato un voto di ragazzi, la giuria aveva selezionato dei libri e i ragazzi hanno scelto fra questi libri, i ragazzi delle quattro città abruzzesi, personalmente mi ha fatto molto piacere perché io sono un professore, il mio mondo è quello della scuola e dell'università. Lei ha partecipato a molti premi letterari, anche idee si è fatto del premio Croce di Pescasseroli? Se non altro mi ha dato l'occasione di conoscere una parte d'Italia che non conoscevo colpevolmente e dove spero di poter tornare già forse l'anno prossimo in vacanza perché rispetto al resto d'Italia in questi giorni così calorosi devo dire che da voi si sta quasi bene. Pensiamo che anche se apparentemente le questioni su cui lavoriamo magari non sono immediatamente legate alla vita di tutti i giorni, ma le ricadute scientifiche sono sempre legate alla vita di tutti i giorni e quindi è bene che il pubblico sappia cosa stiamo facendo. Ed ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dalle emozioni del calcio della Coppa Italia che ieri si è disputata allo stadio Adriatico Cornacchia, tanti gol all'esordio del Pescara contro la Triestina, partita finita 5-3, difesa da rivedere per i biancazzurri. Allora andiamo a vedere il servizio della partita e poi le dichiarazioni del tecnico Zeeman. Gole d'emozioni all'Adriatico dove il Pescara la spunta sulla Triestina solo ai supplementari dopo aver rischiato il K.O. 5-3 il finale per la Zeeman Band in una serata che ha visto otto reti, altre cinque annulate, tante emozioni. Per i biancazzurri sabato 12 agosto ci sarà così la gara del terzo turno al Rigamonti di Brescia. Davanti a circa 5.000 spettatori Zeeman si affida al canonico 4-3-3 in porta alla spunta Fiorillo. In difesa spazio a Mazzotta, coda dell'Icari e Zampano. Chiavi del centrocampo a proiettico Carraro e Brugman sulle fasce. In avanti il trio d'attacco è formato da Capone, Pettinari e Nicastro. Fra i Giuliani riflettori puntati sulla punta, Rakhi d'Armà nel catino bollente di Via Pepe si comincia con il Pescara in maglia blu e già vicino al vantaggio al secondo con Bocca Nera che dice no a Nicastro. Risposta ospita al quarto con Franza che impegna Fiorillo che si salva in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del Korn e Acquaro a beffare l'estremo biancazzurro per l'inatteso vantaggio ospite. Pescara costretto già a rincorrere con i biancorossi pungenti in contropiede. All'ottavo ci prova Gaston Brugman dalla distanza con palla alta di poco. Al dodicesimo il Pescara trova il pari ma la rete di Cristian Capone viene annullata per fuori gioco. I biancazzurri mantengono il controllo del gioco con tanto possesso palla. Al diciottesimo Capone trova ancora la rete ma sempre in offside con l'annullamento di Francesco Forno da Roma. La terza rete annullata per fuori gioco è quella di Pettinari al diciannovesimo. Sembra uno scherzo ma è tutto vero. Al ventesimo tocca Zampano con un tiro cross e poi colpire la parte alta della traversa. Ad interrompere il forcing infruttuoso degli abruzzesi ci pensa al venticinquesimo Armà con un tiro insidioso che si spegne a lato. Al ventisettesimo però al quarto tentativo il Pescara trova il pari grazie a Pettinari che su cross di Mazzotta non sbaglia per il meritato 1-1. Al trentunesimo arriva anche il gol di Armà annullato anche questo per fuori gioco. Al trentasettesimo dopo un break di qualche minuto è Pettinari di testa a mancare il 2-1. La superiorità del Pescara è solare così è una logica conseguenza il 2-1 griffato da Brugman dai 18 metri quando il cronometro segna il trentanovesimo. Ma le emozioni non sono finite visto che proprio al quarantacinquesimo Armà approfittando di una dormita generale della difesa adriatica firma il 2-2. Dopo un primo tempo pirotecnico nella ripresa si ricomincia con Cullibali al posto di Carraro. Al quinto proietti con un missile colpisce la traversa prima del tiro di Brugman smanacciato dal portiere Giuliano in angolo. Rispetto alla prima parte di gara la squadra di Zemano è meno efficace. Al ventitresimo arriva il momento di Gans e del Sole che entrano al posto di Pettinari e Nicastro ma la triestina è letale con Armà che alla mezz'ora fa 3-2 e doppietta personale. Ma al quarantacinquesimo c'è ancora un colpo di scena con l'arbitro romano che assegna un rigore al Pescara per una trattenuta in area ospite su Gans che dagli 11 metri non sbaglia per il 3-3. Si arriva così ai tempi supplementari quando al quinto del primo Cullibali fa 4-3 di piatto in area su cross di Zampano. Poi al quindicesimo c'è da segnalare il salvataggio di Boccanera su Capone. Nelle seconde supplementare al secondo minuto c'è il quarto gol annullato al Pescara con Gans. Al nono minuto ci prova lo scatenato Cullibali con Boccanera che dice no ma che non può nulla all'undicesimo su del Sole che festeggia il gol del 5-3 e la prima rete vera tra i professionisti con la maglia del Pescara così come per il senegalese Cullibali. Io penso che la squadra ha giocato, noi al centrocampo in su abbiamo creato qualcosa fare 11 gol in una partita non è poco anche se se erano fuori gioco mentre dietro soffriamo. No, per me il centrocampo ha fatto bene se è in primo tempo che secondo. Ne ha problemi dietro nel senso che non riusciamo a prendere riferimenti e poi è facile per l'avversario arrivare. Vabbè i tre a centrocampo io li ho provati già ultima partita quindi non mi hanno dato soddisfazione nel senso che riescono a giocare insieme anche se non hanno grande ritmo però tre registi se giocano insieme riescono a impostare e anche per questo siamo arrivati spesso al tiro. Poi su chi si deve contare bisogna vedere e spero che questi ragazzi che sono giovani impareranno più presto di giocare insieme. qualità ce l'hanno poi bisogna metterli a disposizione della squadra. E lui è abituato a giocare a prima di nuovo sono tutti i tre che sono abituati a giocare nel mezzo a registi. Poi se riescono a giocare insieme penso che ci è riuscito oggi è normale che con Coulibaly c'è più fase fisica però a me sta bene che si cominci a costruire nel mezzo. Vabbè che abbiamo problemi dietro si sa. Io non faccio mercato. è normale che se siamo ancora tanti è difficile mettere dentro qualcuno perché lavorare come abbiamo lavorato prima con 39 ora con 30 non è facile. E adesso scendiamo di categoria per parlare del Teramo doppio colpo di mercato per il Diavolo in bianco-rossa arrivano gli ex lumezzani Antonio Bacio Terracino e il centrocampista Kevin Varas vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo batte un colpo anzi due Antonio Bacio Terracino e Kevin Varas infatti andranno a rinforzare la rosa di Antonino Asta che da giorni reclama elementi che possano inserirsi in un contesto di organico già a buon punto ma anche ancora latita di alternative. E dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano della Fermana il sodalizio bianco-rosso accelera decisamente anche sul fronte mercato per Bacio Terracino la trattativa è stata un po' più lunga anche perché sull'attaccante napoletano c'era l'interesse di altre compagini di Lega Pro. Un vero e proprio blitz invece quello del Diavolo per assicurarsi l'Equadoriano classe 1993. Dunque il Teramo fa compere in casa del Lumezzane perché anche Varas nell'ultima stagione ha giocato nelle file dei Lombardi 32 le presenze e due assist in 2.208 minuti. Giocatore duttile che può ricoprire il ruolo di mezzalo di frangiflutti davanti alla difesa. Fa del dinamismo e della velocità delle armi che presto metterà a disposizione della mediana di Asta. Questa settimana infatti oltre ai calendari che saranno sorteggiati giovedì all'Exaurum di Pescara servirà al Teramo per integrare i due nuovi elementi. Non tanto in vista del secondo impegno di Coppa Italia col Fondi visto l'esordio improbabile e un reinserimento dei bianco-rossi nel discorso qualificazione quanto come tappa fondamentale di avvicinamento al campionato che partirà tra tre settimane esatte. Probabile che Bacio, Terracino e Varas non saranno gli ultimi due tasselli visto che il diavolo sta ancora pensando all'inserimento di un difensore di piede destro da adattare proprio da quella parte di campo alle spalle del titolare Ventola e ad un vice Foggia visto l'addio di De Julis che dopo alcuni giorni non ha convinto e ha lasciato già la squadra per accasarsi nella Serie D. Il discorso portiere è un po' più complicato Calore il titolare Lewandowski il secondo ma non è detto che saranno gli unici in questa stagione. Qualcosa potrebbe cambiare da qui ad inizio torneo ma sarà una scelta della società considerando anche i margini economici di manovra specie pensando che gli esuberi sono ancora tutti o quasi inorganico e non sarà facile liberarsene. Proseguiamo sempre a parlare del Teramo che ha presentato la campagna abbonamenti una sola città una sola maglia il claim scelto per gli abbonamenti per la prossima stagione da questo pomeriggio è possibile sottoscrivere le tessere presso l'Alma Point in un momento economicamente non facile la società spera in un buon sostegno economico da parte degli sportivi teramani. Vediamo. Sono in vendita da questo pomeriggio nell'unico punto adibito Alma Sport le tessere di abbonamento della Teramo Calcio per la stagione 2017-2018 si va dai 500 euro del settore poltronissime ai 260 euro per la tribuna 130 per i distinti 120 per la curva per una gara la società si riserva di indire la giornata bianco-rossa in cui gli abbonamenti non saranno validi dai prezzi si desume la scelta della società di creare un ampio settore popolare Sì, questa è la principale novità della campagna abbonamenti ideata dal nostro adetto marketing Marco Volponi ringrazio per la grafica anche Armando De Luca questa è la principale novità perché abbiamo deciso idealmente di legare questi due settori che sono gli unici due settori non coperti dello stadio Bonolis quindi che hanno magari un minore comfort rispetto al settore di tribuna coperta con una differenza minima quindi di un euro solamente per il costo del tagliando singolo e di 10 euro per quanto riguarda la tariffa intero dell'abbonamento stagionale confermato il pacchetto fidelity per famiglie vecchi abbonati disoccupati e genitori di iscritti a scuola calcio prelazione per le poltronissime possibile da oggi al 12 agosto una sola città una sola maglia il claim scelto dal sodalizio biancorosso che aspetta un importante aiuto dalla città dato il momento economico non semplice la società è pronta a fare ulteriori sacrifici però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti della città perché mi ripeto è un patrimonio di tutta la città di Teramo non solo della società Teramo è chiaro che abbiamo delle difficoltà per i contratti che ci portiamo in dote perché in Lega ci sono dei presupposti economici che bisogna attenersi e noi non vorremmo sbagliare ecco lei parlava degli purati c'è l'ipotesi di qualche reintegra se ne era parlato alcune settimane fa state rivagliando questa soluzione ma ne abbiamo parlato con il mister diciamo se dovessimo noi andare alla ricerca di un target di giocatore che possiamo avere dentro cercheremo di farlo meno possibile ma se eventualmente abbiamo bisogno di ruolo e ce l'abbiamo dentro sicuramente sarà così è tutto anche per l'edizione della notte del TG6 i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di mattino 6 e poi con le tre edizioni canoniche del nostro giornale alle 14 alle 19 e alle 23 grazie per averci seguito buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti